Cari cittadini, buonasera, una comunicazione urgente da dover fare. Poco fa, una mezz'oretta fa, mi è pervenuta una nota via Pecca dalla Regione per quanto concerne la sospensione della rete idrica a seguito di un guasso con la condotta regionale. Purtroppo i lavori mi comunica la Regione che non termineranno da qui a poco, probabilmente sarà ultimata o nel corso della notte la riparazione o domani mattina. Quindi ho ritenuto di dover intervenire con due autobotti che l'ufficio tecnico ci ha provveduto a chiamare, la ditta appunto per fornirci due autobotti che verranno posizionati lungo via Rambi. Da qui a più o meno mezz'ora, massimo un'ora, ci saranno lungo via Rambi due cisterne di acqua potabile che saranno posizionati, vi ripeto, una all'inizio di via Rambi e una alla fine. Il servizio durerà fino alla mezzanotte. Qualora domani mattina, nel corso della notte, quindi non verranno terminati i lavori di riparazione della condotta, il servizio continuerà anche domani mattina. Quindi aspettiamo chiaramente la fine dei lavori e il ripristino dell'erogazione dell'acqua. Quindi, ripeto, da qui a mezz'ora ci saranno due cisterne di acqua potabile posizionate lungo via Rambi. Qualunque altra comunicazione importante sarò tempestivo a fornirla. Buonasera.